Ciao amici senpai, ciao amici senpai, ciao amici senpai, ciao amici senpai, papà, com'è la tua intro? Chi è questo? Ciao amici senpai, benvenuti in un nuovo video. Lollo? Ah ok, ciao amici senpai, ciao amici senpai, benvenuti, devo dire la velocità, sono un ricco, mamma mi prendi, mamma prendimi, mamma prendimi, mamma, 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 Perché inizi tu il mio video? Io faccio il video nel paradiso. No, ma non ci dovevamo sposare? No, che nel senso abbiamo avuto un figlio, però se i tuoi genitori scoprono, scoprono che hai avuto un figlio senza sposarti non se la prendono, mamma? Vabbè dai sposiamoci. Va bene, come si fa? Ehm, non lo so. Dovresti chiedere a tuo papà? Hai chiamato un attimo fa? Serve una chiesa, serve un prete, servono delle leggi. Una chiesa? Vabbè è una chiesa. Papà dov'è una chiesa? Eh Lucchino, ce n'è una in fondo alle scale. Ma in fondo alle scale? Scale dove? Cazzo lo sta picchiando? Sta picchiando? Papà, ma sei sicuro che erano queste le scale? Eh Lucchino, devi usare la testa quando fa le cose. Ma, ma dove mi trovo? Ma... Lollo? Ma che voce? Mamma? Mamma 2? Chi sei tu? Ma chi? Sono... Sono... Io non sono mamma. Mamma, non mi riconoscete? Mamma 1? Non mi riconoscete? Mamma 1? Ma dove fai? Dov'è Lollo? Eh, ma dove... Mio papà mi ha detto che devo... Dovevo venire qui per sposarmi con mamma 2. Abbiamo fatto un figlio. Cosa? Eh? Ma che hai fatto? Ma che... Come che fai tu? Ma è Lollo che... È Lollo che... Non so... Ma che schifo fai? Come che schifo fai? Ma non ho fatto niente io. Mamma, non li ziegate mamme. Ma... Secondo me è Lollo che si... Tocca a parte le palline e fa la vostra. Ma ha detto che bisogna andare alla cattedrale. Cattedrale? Alla cattedrale? Alla cattedrale? È di qua mi ha detto. Che è la cattedrale. Ma io ho paura. Mamma, mamma, vai avanti tu per favore. Ma no, vai avanti da... Voi siete grandi. Ma io non capisco che ci fai tu qui. Su, su, entrate nel girone. Adesso parlate come se fossero piccoli. Allora, no! Ma... Mamma? Perché? Perché cosa? Pichi! 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 No! Mamma? Cosa è successo? Perché siamo piccolini? Perché c'è questa boccina, mamma? Perché io non lo so. Ma questo è il girone dei locchini? Dei locchini? Dei locchini? Come mai hanno dedicato un girone solo a me? Dite che è un peccato essere un locchino. Stupida trega. Stupida trega. Stupida trega. La cadrega. La cadrega. Andiamo, andiamo. Andiamo a sposarci. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Io e Anna. E l'una di miele faremo cose brutte, 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 brutte. No, no, Charlie, mogna. Aiuto. Mamma. Mamma, andiamo? Andiamo a sposarci? Charlie, tu fai il prete. Non è così, mamma. No. Dai, fai il prete. No. Fai tipo, Anna, tu e l'occhino lo volete? Sì, sì, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Ma no, ma non volete, no. Io lo voglio. No, sto morendo. Mamma, uno. Mamma, ho qualcosa in testa. Me lo togli? Sì, lo togli, mamma. Ho qualcosa in testa. Ah, 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 aiuto. C'è un mal di testa, mamma. Ma, ma che cos'è? È questa la cattedrale. Cattedrale. Ma no, ma quale cattedrale? Tu non devi sposarti. È questa. È un loco piccolo. Charlie. Scusami, ogni tanto mi viene la voce da cinese. Ma ste streghe di merda. Oh, streghe di merda? Sarai tu. Un pochino, ma sembri un porco spino. Ma, eh, c'è tutte le fricette in... C'è tutte le fricette in testa. Prova a carezzarmi. Vai, carezzami. No, ma carezzare l'occhio. Carezzami. Aia, non così. Stupida mamma. No, aspetta, 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 aspetta. A me mancano le mie mamme. Provate a bere queste pozzuzioni. Pozzuzioni. Che ci puzza? Datemi questi... Mi vuole la gola. Anna! Anna, hai digerito? Eh, sì. Ma che è successo? Siete le mie mamma adesso? Perché? Prima cos'eravamo? Dei bambini, tipo. Bambina o meno lo dici? Bambina. Ma a me sembrava di avere una voce un po' diversa. In effetti anche te Charlie era un po' strana. Che, che sono questi? Buoni te. Ma è pieno di cose... Sono un po' magri questi. Mi sembra tipo... Quando... Quando mio papà non mi dà da mangiare. Ma come non si dà da mangiare il tuo papà? No, mio papà non mi dà da mangiare. Ma voi... Ma non vi ricordate niente voi? Ma... Non sapete chi sono io? Non proprio. Cioè... Allora ci sposiamo come due sconosciuti. Facciamo finta che questo è Las Vegas. Va bene? Las Vegas. Las Vegas. Ma scusa, ma te queste cose ti le insegnate? Giusto per capire. Ma aspetta, che cos'è questo pesce? Sculaccio... No, 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 no. Non usare quel pesce, Locchino. Ascolta, ma c'è il papà che devi capire che qui all'inferno si è un po' divertito. Cos'è? Non so dove sia finito adesso il tuo maledetto, ma... Bevo, bevo anch'io! Buono! Buono, buono! Lollo, posso farti vedere una cosa? Che cosa? No, no, devi vedere... Aspetta, aspetta, aspetta. Perché forse non l'ho visto bene. Cosa? Aia. Vieni qua e guarda la lava. Cos'è c'è? Vedi la stella? Cosa? Oddio! Che stella? No, non ci credo. Ah, no? Vedi che c'è una stella nella lava? No! No! Guarda! Seriamente? È uguale a quella... È uguale a quella che ha fatto Lollo nella sua vanilla. È identica! Ma cos'è? No! No! Ma state scherzando, raga, non ho capito. Siamo serissime! No, dai, dopo lo monto, ma... C'è veramente? Sì? Non lo so! Ma sì, togli la texture po', che se ne hai una. È fantastico, potresti farla anche te. Non so se è per la texture. Hai fatta con la lava! Aspetta! Non so, è qualcosa che ha lasciato Lollo? Ma... Ma... Stai calmo, non ti arrabbiare. È caduta giù. Ma... Ma veramente? C'è la stella di mio papà qua. Sì, eh. Una volta mi ci ha portato... Ehi, cosa fai tu? Aia. Cosa sta succedendo? Mamma! Ma... Cioè, mamma U... Mamma U no! Cosa ci regali per il matrim... 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 Mamma, io sono mamma 2. Io mi devo sposare? Tu, mamma 2, devi sposarti con tuo figlio. Abbiamo fatto un figlio, lo figlio. Noi abbiamo fatto un figlio? Sì, è il piccolo della coccatrice, quella buona. La coccatrice buona. Non te la ricordi? Io non faccio i figli con i bambini. Ma di che parla? Venite. Ma non lo so. Ma come non lo sapete? Avete perso la memoria. Non è la prima volta che ti vedo. Ma co... Aia! Ne avevo sentito parlare da tuo padre, ma perché ti nomina di cantino? Ma è l'occhino? Ma perché non si ricordano niente queste due? Eh, cosa ne so, l'occhino? Cioè, una è la stregacicciona e l'altra è la cinofila, giusto? No? Eh, sì. Sono loro due. La stregacicciona con i capelli blu. Io sono la stregacicciona. E l'amante dei cani, quella che c'è sempre l'osso in bocca. Ma in realtà io non mi piacciono i cani, a me piacciono i lupi. Ma già io ho un cane. No, no, già io ho un lupo. Già io ho un cane. No, è un lupo, già, oui. Già, Anna ha trovato un letto, vieni a dormire con me. No, no, no. No, nino. Allora, a me si è concesso che siamo veramente... Ah, bene, allora facciamo così. Prima ci sposiamo e poi andiamo a letto. Ma perché ti devo sposare? Ma me l'hai promesso nel paradiso. Paradiso? Ma di che parla? Il paradiso? Hai presente quando siamo stati divisi in tre? Ma quanto sono alti questi scalini? All'inizio, prima che cominciasse questa avventura, che eravamo soltanto un'unica persona? Sì. No, io no. No, sì, aspetta. L'ospedale è un paradiso. L'ospedale, ma quando inizio sei il figlio di Loki? Sì, secondo me mi chiamo Locchino, di chi vuoi che sia figlio. Non lo so, ci sono tanti Locchini al mondo. Come tanti? Cosa mi stai dicendo? Niente, niente. No, non sono l'unico. Tu sei l'unico vivo, diciamo. Ma mamma. Non dirgliela così, per favore. Mamma 2, cosa mi stai dicendo? Niente, niente. Avevi tanti fratellini. Papà, è vero? Comunque. Locchino, sinceramente non so di cosa stiano parlando. Devo nascondere tutto. Ma come devo nascondere tutto? Dai, ditemi la verità. Mamma 1 e mamma 2. Quanti Locchini ci sono al mondo? Io non sono la stessa persona che hai conosciuto al paradiso. Siamo le stesse persone, ma da anime diverse. Come glielo spieghiamo adesso? Non capisco. Ci siamo divise? Cioè, io? Non capisco. Io ma la pena so l'alfabeto. A, B, D, O, C, Q, R, 9. 9? Ma questo è un gironne? Cos'è un gironne? È un gironne, è tipo un grosso giro. Baila la strega. Dona, sì, non è buona. Ma perché sto parlando spagnolo? Oddio, no. Oh mamma. Perché parla spagnolo? Oh mamma, sì, perché... Oddio, no. Che tal? Hola. Hola amigos. Mamma, sì, 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 mamma, mamma, sì, 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 mam Guarda, 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 è stai molto caliente qui, ma potresti toglierti quell'elmetto per favore? No, è possibile, tengo che tenere stelmetto, come arriviamo insieme a questa montagna? Eh, bisogna togliersi l'elmetto perché più in alto si va, più caldo c'è. Dite che se tolgo l'elmetto sono... sono... e stai... mas legero. Guarda, se ti togli l'elmetto ti sposo. Bravo! No, eh, sto scherzando. Provamos! Oh mamacita, e stai volando! Ma perché continui a parlare così? Oh mamma! Mamma, posso volare? Ma questi sono i superpoteri di Locchino e dell'Occhio del Paradiso! Ce li ho anche qui all'inferno! Ma è bellissimo! Aspetta! Superpotere del teletrasporto del Porto del Puerto Rico! Ah! Slash TP Charlie Moon Locchino Slash TP... Eh, sei stupida però, eh! Eh, ma... Slash TP Alex... No, no, sei no... Locchino Ma dove siamo? E stas conmigo? Donde stas? Anna? Anna? Anna! No! È incredibile! Ti volevo fare uno scherzo! Volevo farti boo! Io ti ho visto, ti ho colpita! E stai volando! È la camisa... Perché stai volando? Azul! La camisa... Ma non è più il coso! Tengo la camisa azul! Tengo... No, puoi descolpirmi! Ma lo smettiamo! Ma perché continui a morire? Locchino, mi fa il STP, per favore? Tata-tata-tan! Grazie! Accontentata! Signorita! E sposiamoci! Ma dov'è stas' l'entrada? Ah! E stamoso sobra... 遊ca il... Teto! Hai trovato un'entrada? Me la sono fatta l'entrada! Allora col picchi tabii! Topi di cocatrici! Cocatrici! Morrite cocatrici! Non farebbero le coccatrici? Come cosa sono? Oh oh Dobbiamo sposarci qui sotto È tanto affollato però Ma cos'è sto posto? Cos'è questo? Oh che bello! Guarda come col picco veloce Coccatrice No scuola c'è troie Scuola c'è troie Che bello Ah kabum Dobbiamo liberare la chiesa dai cattivi Ci sono i preti cattivi Da me da piccolino mi toccavano i preti Cosa? No niente Mi dicevano benedetto nel nome del signor C Ma chi è sto signor C di cui parlare? Benedetto nel nome del signor C Ah sì mi gusta l'occhino nella chiesa Ah ah sì mi gusta l'occhino nella chiesa Ah ah sì mi gusta l'occhino nella chiesa Ah ah sì mi gusta l'occhino nella chiesa L'occhino nella chiesa E' malato lui Ma scusami ma tuo padre cosa si dà da mangiare di solito? Posaci Eh sì su padre Devi dire Devi dire C'è domanda che fai? Locchino Chieres sposar tu mujer Alex 669? E io dico Sì Muchacha Puoi sposarci per favore? No non vi sposo Io non ho voglia di sposarvi Dai per favore No 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 Io voglio Ma non ho ne intenzione di sposarvi Allora Facciamo così Ci sposiamo tutti e tre Ma io Ma che In realtà preferirei Con un adulto sai Fai niente Non fai finta che sono Guarda Mi metto il tuo livello Volo Guarda Così ci possiamo anche baciare E ma se ci sposassimo tutti e tre Ma con tuo papà? Mi vogliono sposare? Davvero? Arrivo! Raga Raga Ma Locchino dove è finito? Locchino chi? Cosa Locchino? Mi ha detto che dobbiamo sposarci Ma Ma Tu non ci hai mai detto di sta cosa del figlio? Cosa ma tu in tutta questa dove sei stato? Infatti dove eri finito tra l'altro? E mi sono fatto un giretto nel purgatorio Il purgatorio? Voi non potete andare da un mondo all'altro No In che senso? Forse ho capito Perché voi Vi siete Stripliche Non so neanche se si può dire Voi vi siete striplicate Mentre io Sono sempre me stesso E sto parlando con Locchino Che è una persona diversa E Locchiaia che è un'altra persona Cioè Ok Non so se sei matto O Charlie non ti ricordi di Mamma 1 Mamma 2 Locchiaia Jawi Che è il fratellino Non ti ricordi niente? Che sta dicendo questo? No Niente Anna tu Ciuchino Che lo devi trovare Niente Ciuchino no Cioè voi sapete solamente scolacciatroie praticamente Eh beh Purtroppo sì L'unica cosa che so è questa L'ultima cosa che ricordo è del mondo normale e quando siamo entrati nel portale dell'inferno Non ricordo nient'altro Beh comunque dobbiamo sposarci Su su allora ci sposiamo? Eh? Va bene d'accordo No no cosa? Come? No dai allora ascolta Devi dirmi Devi dirmi quanti figli hai? Ho solo Locchino Però mi servono almeno due mamme Perché è veramente ingestibile come ragazze Insomma Edita tutto il giorno Si fa maltrattare È difficile per un padre sopportare un figlio così Non si ribella mai Se lo picchia Eh? Abbiamo bisogno un attimo di confrontarci Aspetta Allora Dai Forse per il bene del bambino Non tanto Cosa? Non mi sembra tanto cattivo Ma per il bambino Sì ma poi lui è finito Ok Consultate? Sì sì Quindi? Abbiamo deciso che va bene ma tu dovrei mantenerci Beccon o sculacciatroie? Sculacciatroie vai Va bene vi do gli alimenti Grazie Oi e Samos A chi riunidos No Con quel caschetto No 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 Ok va bene va bene Sì ci sposiamo anche con il file Va bene Allora Vuoi tu Charlie Moon e Alex 69 Prendere come sposo il sottoscritto Locky Shift 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 Sì Sì Lo voglio Lo voglio Lo volete tutte due Lo voglio tutto Aspetta aspetta Vuoi tu? Sì lo voglio cazzo lo voglio Andiamo in luna di miele Sì 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 Shift Shift Ok d'accordo Tocca a me Charlie Sì cazzo lo voglio Sì sì Vuoi tu Charlie Moon Sì guarda faccio un'apertura qua Facciamo così Andiamo in luna di miele Basta Che belle Sono tutti azzurri Occhi azzurri Capelli azzurri Esatto Va bene allora ragazzi Se scusate se non avevo la webcam in questo episodio Comunque Trovate un nome alla nostra relazione a tre Che non sia una ship però Perché ne abbiamo veramente già tante 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 Scrivete nei commenti Quale potrebbe essere il nome della nostra relazione a tre Niente Dall'occhio è tutto Ciao Aspetta Ciao Non l'abbiamo fatto in questo episodio Ok uno e uno due No 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 Perfetto Ciao Grazie marito mio